La caduta degli dei, dopo Ronaldo anche Messi fuori dalla Champions, il Paris Saint Germain di Mbappé ha eliminato il Barcellona, la Juventus davanti al Rosso dei Conti venderà, stasera in Europa League il Milan sarà a Manchester contro l'United, formazione d'emergenza contro la squadra dell'ex dell'Udinese della Samp Fernandes, Donnarumma, Chier, Calabria e Chiesi, Baluardi, Rossoneri, la Roma affronterà lo Schaktiar di Castro con Mitterian di punta e Gecko in panchina, Fonseca contro il suo passato, domani due anticipi di campionato, in Lazio Crotone saranno in gioco la possibilità di fare la Champions dei Romani e le ultime speranze di salvezza della squadra di Cosmi. All'andata la Lazio si impose per 2-0, Atalanta Spezia prova generale dei Bergamaschi in vista della sfida al Real, i Liguri avversari molto agguerriti, andata 0-0. Nella corsa al Primato terranno Banco Torino-Inter e Milan-Napoli.